Benevento, Napoli, Cassino, Fiuggi e Roma, questo in estrema sintesi il percorso di Bicistaffetta 2014 in programma dal 9 al 13 settembre. L'evento è organizzato ogni anno dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta per promuovere lo sviluppo della rete ciclabile nazionale e per mappare i percorsi per il cicloturismo nelle diverse zone d'Italia. Circa 300 km del tracciato di quest'anno che si snoda lungo la ciclovia Romea Francigena e che per l'occasione sarà dotato di una particolare segnaletica.